La lettura della differenza biennale internazionale di drammaturgia femminile ottava edizione all'opera e la tua anima sarà guarita di Sonia Antinori con la seguente motivazione. Sonia, dov'è? Vieni! Grazie a tutti. Le personagge nel ruolo di madre e compagna di una breve seppur intensa storia in funzione di testimoni messi di fronte ad una scelta così estrema agiscono un aspro conflitto riuscendo in tal modo a rappresentare altri punti di vista e una difficile relazione tra donne di generazioni e culture diverse. Il testo presenta un intreccio e una struttura originali e suggerisce una pluralità di possibili messe in scena non convenzionali e seppur i suggerimenti scenici vadano tutti nella direzione del simbolico, lascia alla regia ampie possibilità di resa scenica e differenti chiavi interpretative. La musica di Ligeti, giocata in funzione drammatica e indicata dall'autrice come parte essenziale del testo rappresenta un elemento strutturale dell'opera svolgendo una funzione narrativa evidenziando in tal modo una cospevolezza del mezzo teatro.